Ancora un rinvio per la complessa questione GDM e quanto concordato tra le parti nel corso del tavolo che ha visto ieri riuniti Giovanni Massoli, commissario giudiziare della grande distribuzione meridionale, Eurologistic, le sigle sindacali, Filcams, CGL, Wiltux, FISA, SCAT e UGL e rappresentanti dei lavoratori. E' stata già fissata la data del nuovo incontro il prossimo 20 aprile ed è proprio il periodo scelto a lasciare presupporre che assaltare saranno anche gli impegni assunti l'11 luglio dello scorso anno in prefettura Reggio Calabria. Entro il 22 aprile infatti Eurologistic, società che ha preso in affitto la GDM e la gestione dei punti vendita, avrebbe dovuto procedere al riassorbimento di tutte le maestranze ancora in cassa integrazione. Cosa che a questo punto non avverrà, stando anche alle indiscrezioni sul nuovo piano industriale, per il momento solo una bozza, che prevedrebbe la ricollocazione in attività di 70 dei circa attuali 180 cassi integrati, ma solo tra un anno. Tra un mese invece ci sarà l'ennesima nuova verifica sulle problematiche legate in particolare al DOX e al centro distribuzione di Campo Calabro, oltre ai punti vendita di Vibo, Valenza e Crotone, per i quali i sindacati hanno espresso forti preoccupazioni circa la loro possibile mancata riapertura. È slittato anche il confronto sui termini del contratto d'affitto d'azienda ad Eurologistic e sull'eventuale nuovo assetto societario. Motivo di grande preoccupazione anche in mancato, tempestivo pagamento delle retribuzioni per chi è già al lavoro. Tutte questioni di cui è stato investito il commissario straordinario, il quale andrebbe ad affrontarle solo nel caso in cui fosse lui stesso ad assumere direttamente la gestione della società. E l'incertezza dunque a farla ancora da padrona, nel frattempo però i lavoratori alle prese con gravi problemi di accreditamento, lanciano il primo ultimatum. Qualora entro giorno 25 non venissero pagati la metà della retribuzione di gennaio e tutto il mese di febbraio, si asterranno nuovamente dal lavoro bloccando tutti i punti vendita della Calabria.